Direttore e i dipendenti uscivano dal supermercato e si ritrovavano con le gomme dell'auto forate. Da febbraio a maggio un continuum di atti vandalici, seguiti da querele presentate alla stazione dei carabinieri di Marostica. Oggi è stato identificato e denunciato l'autore, il vendicatore delle gomme, residente a Marostica, 58 anni, di origini albanese. L'uomo ha confessato di aver forato le gomme delle vetture per vendicarsi di una denuncia. Lo scorso gennaio, infatti, il 58enne venne denunciato dal direttore del Prix Quality di Marostica per un tentato furto tra gli scaffali. A dire del 58enne una cosa di poco conto e che meritava dunque di essere vendicata.